Ciao sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video, oggi ci occupiamo di ciglia, è un video indicato per gli amici e le amiche che hanno le ciglia che curvano all'ingiù oggi vediamo infatti come renderle più aperte a ventaglio, anche volumizzate e con la piega all'infuori ciao come state? spero bene, bentornati sul canale se questo video vi può essere utile vi chiedo subito di lasciarmi un bel pollice in su, di iscrivervi nel caso non siate ancora iscritti al mio canale e di raggiungermi su Instagram, mi trovate come osservatrice scaltra, li vediamo tutti gli argomenti da approfondire a tema beauty oggi quindi vediamo insieme come con alcuni trucchetti rendere le ciglia più voluminose, ma anche avere una bella apertura di ciglia all'insù, all'infuori il primo prodotto che voglio inserire in questo video è un trattamento, è un trattamento a uso serale ed è di Vip Makeup l'ultima novità del brand, Vip Makeup è un brand made in Italy, come sapete ho il loro codice sconto, anzi colgo l'occasione per dirvi che è cambiato oggi potete andare tranquillamente sul loro sito e mettere nel carello i prodotti che vi interessano e aggiungere il codice AMBRA senza la percentuale di sconto, in base al periodo vi verrà applicato uno sconto variabile fino a oggi mi sembra avete lo sconto del 40, vi lascio tutte le informazioni del caso come mio solito qua sotto nell'info box o nel commento fissato in alto non perdiamoci in chiacchiere, vi racconto perché decido di inserire proprio il volume botox in questo video è un trattamento per sopracciglia e ciglia, va a riprodurre sostanzialmente con l'uso prolungato l'effetto della laminazione a ciglia e sopracciglia favorisce la ricrescita naturale del pelo, lo idrata, lo protegge dai fattori esterni come raggi ultravioletti, danni solari crea proprio una sorta di pellicola intorno al pelo che lo fa apparire più voluminoso ma lo rende anche molto più elastico di solito lo applico con uno scovolino di un mascara, capirete da soli che è un trattamento di questo tipo che si applica tranquillamente tutte le sere sulle sopracciglia e sulle ciglia, in questo caso vi faccio vedere l'applicazione su ciglia va applicato in questo modo con uno scovolino, potete applicarlo anche tranquillamente con un cotton fioc, lo lasciate in posa un 15 minuti dopodiché rimuovete gli eccessi e a differenza di prodotti del genere che si propongono di prendersi cura della crescita, ricrescita del volume di ciglia sopracciglia non ha sostanze che possano creare effetti secondari, non va a creare alterazioni ormonali e quant'altro fattore purtroppo molto comune in prodotti simili a questo che si prefigono i soliti risultati ottimo questo prodotto se volete prendervi cura delle vostre ciglia ma anche renderle più morbide ed elastiche quindi pronte per essere messe in piega e qua arriva il nostro secondo trucchetto nonché alleato di bellezza il piegaciglia, so che molti, molti, molti di voi lo guardano come uno strumento di tortura medievale no, 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 questo prodotto è simpatico, carino, può fare un po' paura in effetti però ora vi spiego come utilizzarlo e sappiate che potrebbe essere davvero il vostro miglior amico e alleato nella beauty routine in realtà è uno strumento focus molto utile, utilizzato da decine di anni nella messa in piega delle nostre ciglia ci regalerà un'apertura davvero notevole e ci aiuterà anche ad applicare la mascara senza sporcarsi ora vi faccio capire che intendo è molto importante comunque quando si sceglie un piegaciglia badare ad alcuni aspetti l'aspetto igiene è fondamentale ogni volta che andate a utilizzare il vostro piegaciglia andando a contatto con una parte molto delicata ovvero la zona oculare per evitare contaminazioni batteriche che potrebbero anidarsi sull'occhio creando le classiche e molto odiose congiunti viti è molto molto importante tenere questo strumento al riparo da polvere e altre agenti batterici ma soprattutto andarlo a digianizzare correttamente l'altro aspetto fondamentale per un uso corretto del vostro piegaciglia in questo caso io lo possiedo di Chanel ha almeno una decina d'anni ne esistono di economici ottimi in commercio io quel giorno volevo fare la sborona ho preso quello di Chanel però perché vi dico questo? perché io ce l'ho da dieci anni e voi direte ma questa dopo dieci anni è ancora il solito piegaciglia e si raccomanda? allora l'igiene è importante l'altro aspetto importante del piegaciglia è tenere controllato o cambiato il cuscinetto ovvero la parte che abbiamo qua quella che va a raccogliere le ciglia dal sotto è molto importante infatti che il cuscinetto sia perfettamente integro esistono anche cuscinetti di ricambio li trovate anche su Amazon sono perfetti per essere sostituiti nel caso andassero a rovinarsi a deteriorarsi con il tempo e ora vi faccio vedere come uno strumento così semplice e all'apparenza inquietante può dimostrarsi davvero utile nel piegare le ciglia vado a lavorare sull'occhio destro prendo uno specchio lo tengo basso faccio in modo che questa parte appoggi sulla mia guancia raccolgo le ciglia e vado a piegarle sulla metà tengo pigiato circa 20-30 secondi e tiro all'insù le mie ciglia sono molto molto chiare quindi non so quanto vi sia agevole scorgere la differenza io la vedo già moltissimo una volta che siete un po' più pratici pratiche col piegaciglia potete anche posizionarlo in maniera differente quindi inclinandolo in maniera diversa per direzionare la piega dove meglio preferite piccolo extra so che molte persone utilizzano il piegaciglia a caldo in tanti video virali sul web si vede addirittura il piegaciglia scaldato con il phon appoggiato su una fonte di calore addirittura su un accendino ora io ci tengo moltissimo a dire che sì, se da un lato un leggero calore può facilitare la piega dall'altro non scordiamoci due fattori importantissimi il primo è che il piegaciglia è uno strumento metallico sapremo dai tempi delle medie che non c'è miglior conduttore di calore che il metallo anche un calore del phon può rivelarsi davvero pericoloso una volta sul nostro piegaciglia soprattutto a contatto con una zona così delicata l'altro aspetto molto molto importante è di non cadere nello stesso errore che facevo io da ragazzina ovvero applicare il mascara lasciarlo seccare e poi andare di piegaciglia in questo modo è vero che daremo quello sprint in più alle nostre ciglia perché saranno irrigidite dal mascara già seccato che avvolge le ciglia e le fissa e andare effettivamente a utilizzare il nostro piegaciglia su ciglia che stanno su tipo stucco con il mascara ce le farà risultare all'insù in realtà però non ci può essere mossa peggiore che andare a fare ciò poiché andare a piegare le nostre ciglia con il mascara addosso proprio a causa di questa rigidità creata dal mascara farà sì che le nostre ciglia siano più fragili possano spezzarsi o cadere mi raccomando è molto importante che evitiate di fare le cose che vi ho detto finora intanto come vedete la mia piega rimane all'insù altro piccolo consiglio ovviamente come facilmente potrete intuire più andrò a ridosso della mia rima cigliare più le ciglia saranno sollevate all'insù francamente io vi consiglio anche per non rischiare di prendere e stringere la pelle di andare a metà delle vostre ciglia ora passo all'applicazione del mascara visto che abbiamo utilizzato il trattamento botox di Vip Makeup vado a utilizzare anche il loro mascara questo è il volume explosion di Vip Makeup ed è il mascara di cui negli ultimi video mi avete chiesto vedendomi con queste ciglia aperte all'insù ecco avevo utilizzato il mascara Vip Makeup che una volta maturato un pochino dopo 20 giorni dall'utilizzo mi ha lasciato del tutto stupefatta è un mascara che allunga crea volume e definizione in nero intenso e su di me dura bene procediamo all'applicazione del mascara e noi ci accorgiamo che se abbiamo usato il piegaciglia le nostre ciglia saranno già più aperte all'insù quindi appoggio lo scovolino del mascara dopo averlo pulito bene dagli eccessi mi raccomando per non creare macchia lo appoggio alle ciglia alla base alla radice delle ciglia e tiro in su con dei piccoli movimenti rotatori dello scovolino dovranno essere impercettibili guardo anche in questo caso verso il basso appoggio il mascara e tiro in su sollevo piccolissimi movimenti zigzag e una volta posizionato il mascara nella parte finale delle mie ciglia sollevo le punte in questo modo senza aggiungere altro prodotto ok questo è il risultato come vedete sono davvero aperte le ciglia sembra di averle applicate finte ecco qua questo è il risultato ma se seguite il mio canale da anni saprete che io ho un segreto in più ovvero la messa in piega manuale delle ciglia l'ho ribattezzato così questo metodo mio del tutto improvvisato ed è un metodo che devo ammettermi da grandi soddisfazioni da anni in cosa consiste una volta applicato il mio mascara aspetto quel momento in cui il mascara non è completamente asciutto ma non è nemmeno super liquido insomma lo lascio un attimo raddensare e quando è ancora morbido prendo le dita io di solito uso il medio e vado con un leggerissimo movimento a pressare le ciglia con un movimento all'insù questo è un trucchetto che ci aiuterà se abbiamo ciglia molto pesanti che tendono all'ingiù a farle stare su bene amici io spero davvero che questo mio video possa esservi stato utile fatemi sapere qua sotto nella sezione commenti se così è stato mi farebbe davvero molto piacere se questo mio contenuto ti è stato utile non scordare di lasciarmi un bel pollice in su un commento e magari anche di condividerlo con un tuo amico o una tua amica che ha lo stesso problema noi ci vediamo prestissimo vi è mia trovare su instagram mi trovi come osservatrice scaltra e l'augurio mio è sempre il solito non scordare di starmi bene ciao Grazie.